Brilla Natale in centro storico e piace ai modenesi, in tantissimi in questi giorni per le vie del centro, per lo shopping natalizio, per una semplice passeggiata alla riscoperta della città. Le luci realizzate da Modena Moremie in collaborazione con il comune e i commercianti accendono via Emilia, piazza Grande, piazza 20 Settembre e non solo. Poi il trenino per i bambini, i presepi, gli alberi di Natale donati dal comune di Fanano e la musica, ieri tanta musica, dal concerto delle Voci Bianche del Teatro Comunale in San Barnaba di via Carteria a quello gospel di piazza Grande. Una Modena così bella erano anni che non la vedevamo. Nella passeggiata dei modenesi tappa fissa nella nuova piazza a Roma, fino al 31 gennaio anche pala ghiaccio. E' divertente, lo consiglio a tutti. E' molto divertente, patinare e ghiaccio è la mia prima volta, anche la mia. Molto divertente, qualche volta cado ma anzi mi diverto. Buon Natale! La ghirlandina. E' anche tutte le luci, è tutto molto accogliente, è bello, è luminoso. Buon Natale! Buon Natale!